Che ne pensa? È buono, un po' troppo buono per una bambina di otto anni. Credo di scorgere lo zampino puzzolente di papà. Signor Simpson, vorrei porle qualche domanda riguardo al tema di sua figlia. Lisa, vuoi scusarci? Ok! Stelle e strizze, che diavolo voleva significare? Lei è uno scrittore? Si interessa di politico o di cose governative? Si interessa di una cosa qualunque? Può toccarsi il naso, per favore? Lisa, dopo l'incontro con tuo padre, ho deciso di premiarti con altri cinque punti. Congratulazioni!